Sono Luisa Allagoria, intreccio e teso a mano. La mia attività comprende tutto il ciclo di produzione, dalla coltivazione dei salici alla progettazione dell'oggetto da realizzare, quindi il design, e anche l'intreccio, l'ultima fase. Le valli del Natisone per me sono una grande fonte di ispirazione, in quanto trovo anche altre essenze, arbore, quali liane, cortecce, radici, che introduco nei miei cesti. L'altra attività, la tessitura a mano, include una tecnica molto antica, la tessitura con le tavolette, con la quale io tesso delle cinture, delle fasce, dei braccialetti, dei galloni, che possono essere introdotti anche per arredamento inclusi ai miei cesti.